Assessore Farnioli, ma per l'autoscala siamo arrivati a conclusione? Andremo quanto prima con le due mozioni firmate e votate all'unanimità dal sottosegretario Prisco, che peraltro è anche un nostro collega, perché il nostro sottosegretario, l'onorevole, è un direttore del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e della Difesa Civile, quindi è un vigile del fuoco anche lui. Sono sicuro che ascolterà comunque la nostra esigenza, che qui va avanti da tanti anni, chiediamo un'autoscala per la popolazione e per il nostro territorio, che, attenzione, inizia a Santa Marinella il nostro territorio di intervento e finisce a Focene. Quindi un'autoscala purtroppo ancora è indispensabile, è soprattutto indispensabile. Grazie a tutti!